Per aumentare la massa muscolare serve prima di tutto sollecitare i muscoli nel modo adeguato, con uno stimolo abbastanza grande da indurre crescita muscolare, che dovrebbe essere composto principalmente da esercizi multiarticolari pesanti. Dopodiché, dal punto di vista nutrizionale, per aumentare la massa muscolare servono proteine, aminoacidi, soprattutto quelli a catena ramificata come leucina, isoleucina e valina, in grandi quantità, e poi servono nutrienti in grandi quantità. Non servono carboidrati. A riprova di ciò, oltre a tutta l'esperienza di tantissime altre persone come il sottoscritto, che sono perfettamente in grado di mettere massa muscolare pur non mangiando mai carboidrati, uno studio controllato randomizzato, effettuato su uomini di mezza età, ha mostrato che una dieta chetogenica ha lo stesso impatto sulla forza muscolare, sulla composizione corporea, sul profilo lipidico e ormonale rispetto ad una dieta non chetogenica. Un altro studio, condotto tra l'altro da ricercatori italiani, svolto su atleti di ginnastica di livello d'elite, ha mostrato che la performance sportiva non viene intaccata negativamente da una dieta chetogenica. Inoltre si sono osservati una perdita del peso corporeo, una perdita della massa grassa e un leggero aumento della massa muscolare magra. Non una diminuzione quindi, ma un aumento. Chi consuma carboidrati quindi non ha assolutamente alcun vantaggio su chi non ne consuma, ma semmai è più il contrario, e di sicuro chi non ne consuma ha un vantaggio non indifferente sul piano della salute. Cosa non di poco conto, visto che mantenersi in salute ed evitare infortuni è la chiave per un atleta, per riuscire ad essere longevo nell'allenamento e quindi anche progredire maggiormente nel lungo termine. Volevo farti sapere che ho appena pubblicato un libro dal titolo La dieta carnivora mi ha salvato la vita. Se sei curioso di saperne di più sulla mia storia con la dieta carnivora, di tutto ciò che ho imparato in questi primi tre anni di questa fantastica avventura, non devi fare altro che cliccare sul primo link nella descrizione. Dopo averlo letto lascia poi una recensione su Amazon. In questo modo aiuterai altre persone a scoprire la dieta carnivora tramite il mio libro. E se vuoi suggerirlo ad amici, conoscenti, parenti, che avrebbero bisogno di conoscere queste informazioni, sei liberissimo di farlo. Il libro è accessibile a chiunque, dato che ha un linguaggio semplice e chiaro. Ciò nonostante è un libro molto denso di contenuti. E sono sicuro ti piacerà tantissimo, perché smentisce tutto ciò che ci hanno sempre detto sull'alimentazione. Ho aggiunto anche centinaia di fonti scientifiche a sostegno di quanto affermato. Quindi è stato veramente un lavoro con i fiocchi. Se vuoi acquistarlo, anche solo per supportarmi, ti ringrazio enormemente. Iscriviti al canale se sei nuovo e ci vediamo al prossimo video.